Ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. L'Aggiunta Comunale di Cava dei Tirreni ha approvato ieri mattina, domenica 3 marzo, il rendiconto di gestione per l'anno 2023, dal quale emerge un netto miglioramento dei conti dell'ente, disavanzo ridotto di circa 8 milioni di euro. Migliorano i conti del Comune di Cava dei Tirreni. La conferma arriva direttamente dal rendiconto di gestione dell'anno 2023, approvato ieri mattina, domenica 3 marzo, dall'Aggiunta Comunale Metelliana. Dal consuntivo, infatti, emerge un recupero del disavanzo per circa 8 milioni di euro. In questi ultimi tempi stiamo lavorando veramente senza alcun tipo di interruzione, che sia festiva o di altra natura. Gli uffici sono stati aperti anche sabato pomeriggio. Per quale motivo? Perché noi abbiamo una scadenza più grande e più ampia che quella in riferimento alla Corte dei Conti e quindi al riscontro istruttorio richiesto dalla Corte, che scade in questi giorni. Abbiamo quindi ritenuto importante notiziare la Corte in modo ufficiale di quelli che erano i risultati raggiunti con il rendiconto di gestione 2023. Ed ecco che quindi abbiamo approvato, nella seduta di ieri, giuntale il documento. Io sono contenta del risultato raggiunto. Il mio carattere non mi porta ad avere particolari entusiasmi, perché sono un po' fatta così, ma in realtà il risultato oggettivamente è un ottimo risultato di cui andare fieri. Ed è il frutto di tutte quelle politiche molto oculate, molto rigide, che con sofferenza sono state portate all'attenzione del Consiglio Comunale, che però finalmente iniziano a dare dei risultati assolutamente apprezzabili. Il miglioramento e quindi il risultato raggiunto con il rendiconto è il frutto complessivo di una serie di misure di risanamento che sono inserite sia nel piano di riequilibrio che poi sono state affinate successivamente. Quindi partiamo da una maggiore lotta all'evasione che riflette su una riduzione del fondo credit di dubbia esigibilità. Partiamo dalla scelta operata dall'Aggiunta di utilizzare i proventi d'alienazione per l'estinzione dei mutui contratti. L'estinzione dei mutui comporta sia una riduzione dell'indebitamento generale dell'ente, ma anche una riduzione di spesa corrente, che è quella quota che corrisponde al pagamento delle rate del mutuo contratto. Ancora un miglioramento di quelli che sono i tempi medi di pagamento. Siamo arrivati a pagare le fatture a 25 giorni, che ha un riflesso anche contabile perché non siamo tenuti ad un accantonamento obbligatorio all'interno del bilancio. Insomma, tante cose che sono dettagliatamente analizzate sia all'interno del rendiconto, sia nell'allegato che nella relazione dell'Aggiunta, quindi che avremo modo di esplicare in Consiglio Comunale in modo più approfondito. Sta di fatto che ha preso pieno regime quella che era una misura appena accennata nel 2022 e che ha avuto una sua esplosione definitiva nel 2023 e che sarà strutturale negli anni a venire. Il risultato positivo, emerso dal rendiconto di gestione, lascia ben sperare sul giudizio della Corte dei Conti, che sta esaminando tutta la documentazione contabile prodotta dall'ente prima di pronunciarsi definitivamente sul piano di riequilibrio finanziario pluriannale approvato lo scorso anno. Anche in questo caso il carattere e il rispetto che ho per l'organo e quindi per la Corte dei Conti mi impone un silenzio, ma è un silenzio rispettoso. Sicuramente io ci confido tantissimo in quello che sarà l'esito finale di questa istruttoria per la quale stiamo ancora lavorando alla cremente. Dopo aver approvato il rendiconto di gestione, gli uffici finanziari e l'amministrazione comunale stanno lavorando alla cremente per redigere il bilancio di previsione per l'anno 2024. E intanto è in programma giovedì alle ore 16 il Consiglio Comunale, nel corso del quale sarà discusso l'ordine del giorno firmato da 10 consiglieri comunali in cui viene chiesto l'azzeramento dell'Aggiunta. A zerare l'Aggiunta Comunale è ripartire con un esecutivo tecnico con assessori scelte al di fuori del parlamentino cittadino. È quanto richiesto in un ordine del giorno che sarà discusso giovedì prossimo 7 marzo nel corso del Consiglio Comunale convocato per le ore 16. Il documento, depositato a fine gennaio, è stato sottoscritto dai consiglieri comunali Bruno Delia, noi moderati, Raffaele Giordano, Marcello Murole e Vincenzo Passa di Siamo Cavisi, Analisa della Monica Italo Cirielli di Fratelli d'Italia, Pasquale Senatore per Forza Italia, Pasquale Salsano e Luigi Petrone della Fratellanza e Eugenio Canora del coordinamento civico Cavasia Finalmente Cava. In pratica, i gruppi che hanno firmato l'ordine del giorno chiedono al primo cittadino di prendere atto del fallimento della squadra di assessori e di avviare, una fase nuova, in totale discontinuità con quella che ha portato il Comune ad una situazione gravissima sia sotto il profilo economico-finanziario che sotto quello dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione politico-amministrativa. Alla base della richiesta di azzeramento delle deleghe agli assessori, oltre alla decisione dei consiglieri di azione di lasciare la maggioranza, c'è anche la richiesta di una serie di chiarimenti pervenute dalla Corte dei Conti in merito al piano di riequilibrio plurianale finanziario. Inoltre, i firmatari dell'ordine del giorno puntano l'indice nei confronti della Giunta, rea di aver comportato, a causa della sua inefficienza, alla progressiva erosione della maggioranza consigliare chiamata a sostenerla politicamente. Nel documento che approderà in Consiglio Comunale, i consiglieri di opposizione chiedono al sindaco, quale capo dell'amministrazione, di prendere atto della situazione e di intervenire immediatamente con la sostituzione dell'attuale Giunta Comunale e di costituire una nuova compagina amministrativa che rimarchi la discontinuità con la passata gestione. Pertanto, quello in programma giovedì pomeriggio, si preannuncia una seduta consigliare incandescente. Il parlamentino cittadino, inoltre, sarà chiamato ad approvare le alicote IMU per l'anno 2024 e le nuove linee di indirizzo per l'affidamento in gestione del Palazzo delle Arte e della Cultura, ovvero l'ex Mediateca. Ed ora la cronaca a lite tra due giorgiane a Salerno, in via Vinci Prova. Morto un 49enne, ricerca in corso per arrestare l'aggressore fuggito dalla scena del crimine. Tragedia sabato sera a Salerno, in via Vinci Prova, dove due persone di nazionalità, quanto pare a giorgiana, nei pressi del terminal degli autobus, hanno dato vita, per motivi ancora al vaglio dei inquirenti, ad una violenta lite, suocciata in calci e pugni. Nella collotazione, uno dei due, un uomo di 49 anni, si è accasciato al suolo a causa delle ferite riportate. Nonostante l'intervento dell'ambulanza che ha portato l'uomo in codice rosso all'ospedale Ruggi di Salerno, quest'ultimo è deceduto, dopo poche ore, a causa delle gravissime ferite riportate. L'aggressore, si presume inconnazionale dell'uomo, è fuggito subito dopo, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto, gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica, che hanno riportato gli oggetti rinvenuti sulla scena, insieme a varie tracce di sangue. Gli agenti, nella giornata di ieri, hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza di tutta la zona in cui è venuto il pestaggio. Non si esclude al momento nessuna pista investigativa. Sono stati ritrovati da un turista tedesco sulla spiaggia di Licinella di Capaccio Pestum dei resti umani. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Macabro ritrovamento, nella giornata di ieri, sulla spiaggia Capaccio Pestum. Infatti, sulla renile della spiaggia, sito e località Licinella, è stato rinvenuto un arto di un essere umano, quasi sicuramente di sesso maschile. Si tratta, nello specifico, di resti ossei di una tibia e di un piede, ancora inserito in una calzatura sportiva. A fare ritrovamento a dare l'allarme, è stato un turista tedesco che stava facendo una passeggiata con il suo cane sulla renile Pestano. Ad un tratto, ha notato, mentre passeggiava sulla spiaggia, una scarpa da ginnastica sportiva di colore blu con un calzino. L'uomo, una volta avvicinatosi all'indumento, ha realizzato che si trattava di un resto umano. Una volta ricevuta la segnalazione, sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, che hanno avvertito il magistrato di turno presso la procura della Repubblica di Salerno, che ha disposto il sequestro dell'arto. Nelle prossime ore saranno compiuti gli accertamenti del caso, tramite l'analisi del DNA, per cercare di capire a chi appartenesse il reperto ritrovato. La procedura prevede che il DNA prelevato dalle ossa verrà confrontato con la banca dati a disposizione, con la speranza che si possa arrivare alla soluzione dell'enigma. La banca dati nazionale, dall'istituzione nel 2017, ha analizzato il DNA di 200.000 soggetti e inserito 20.000 profili. Le ipotesi al momento al vaglio degli inquirenti sono molteplici, e la speranza è che la banca dati possa fornire risposte per identificare il proprietario del resto osseo. Torniamo a Cava dei Tirreni, dove quattro consiglieri comunali hanno scritto al prefetto Francesco Esposito per chiedere la convocazione di un tavolo di confronto per cercare di rimuovere le reti di protezione presenti in alcuni settori dello stadio Simonetta Lamberti. Rimuovere le reti protettive presenti in alcuni settori dello stadio Simonetta Lamberti è quanto chieste in una nota inviata al prefetto di Salerno Francesco Esposito e per conoscenza al sindaco di Cava dei Tirreni Vincenzo Servalli dai consiglieri comunali Gaetano Gambardella, Federico De Filippis, Franco Manzo e Filomena Vagliano. Nello specifico, i firmatari della missiva chiedono la convocazione di un tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati per verificare la possibilità di eliminare le reti di protezione presenti in particolare nei settori distinti e curva sud la cui installazione, a quanto pare, sarebbe stata disposta proprio con un provvedimento prefettizio. In sintesi qual è la nostra prerogativa? Questo è un problema che riguarda tutti i capesi, tifosi, sportivi e la cittadinanza visto che il calcio va visto come una giornata di sport, di solidarietà e di spettacolo a questo punto qua, avere queste barriere, quando ormai si parla di stati senza barriere addirittura Palma Campania è il primo campo inaugurato nel 2023 di stati senza barriere abbiamo visto, ritenuto opportuno, accogliere questa istanza dei capesi, dei cittadini, di tutti gli sportivi nonché degli ultrascava, abbiamo inoltrato questa istanza quindi in sintesi cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto un tavolo tecnico, politico, con tutte le autorità e le istituzioni per capire da dove nasce questa delibera prefettizia che ha fatto mettere queste barriere di recinzioni se esiste, per dare una risposta concreta alla cittadinanza e tutta la tifosoria capese perché ad oggi non sappiamo se esiste questa cosa qua e sicuramente pensiamo che possa essere sul lato il problema con la videosorveglianza Per superare l'imposizione ovviamente bisogna rispettare tutti quelli che sono i canoni, i criteri che impongono i vari osservatori sulla sicurezza per gli eventi sportivi è ovvio che è mortificante andare allo stadio e vedere una partita dietro a una rete di recinzione sembrare quasi all'interno delle gabbie La Cavese in questi ultimi anni ha cercato di promuovere e di avvicinare le famiglie e i bambini allo stadio ai colori blu fonzè anche e soprattutto per la necessità di creare nuove generazioni avvicinare queste nuove generazioni alla squadra della nostra città portare i bambini allo stadio e farli entrare per la prima volta all'interno di un settore come quello dei distinti o anche quello della curva con quelle reti di recinzione penso che sia mortificante per la città che è una città che ha una sua storia, una sua storia culturale di un livello alto e che non è giusto che ad essere penalizzati siano appunto i nostri tifosi che in questo ultimo anno hanno frequentato, stanno frequentando campi della serie D del nostro girone che sono dei veri e propri pollai settori a ridosso del campo di gioco non è successo niente, non ci sono mai stati problemi di ordine pubblico quindi non capiamo perché non si possa assumere un provvedimento del genere anche a Cava dei Tirreni che è una città civilissima bisogna cercare ovviamente di rimanere all'interno di certi range, di certi ranghi e non andare oltre quelli che possono essere poi atti di violenza ma la tifoseria cavese ha dimostrato anche nell'ultimo periodo una grande maturità quindi io penso che sia arrivato il momento di togliere queste reti di interfacciarsi con il prefetto la cavese ha manifestato più volte pubblicamente la volontà di voler potenziare la videosorveglianza un sistema di videosorveglianza che già di per sé è all'avanguardia potenziarlo ulteriormente sarebbe un'ulteriore garanzia per le forze dell'ordine e ovviamente noi dobbiamo avere anche la maturità e la consapevolezza che quello che viene fatto anche se un giorno dovessimo riuscire ad eliminare queste reti bisogna essere tutti quanti uniti nella lotta contro la violenza all'interno degli stati e cercare in tutti i modi di favorire l'accesso agli stati e alle famiglie far diventare come diceva il collega Gambardella lo stadio un punto di riferimento per la città deve essere vissuto non solo per i 90 minuti ma per l'intera giornata quindi io mi auguro che questa nostra richiesta che soltanto diciamo un abbiamo pungolato se così si può dire forse non è neanche il termine giusto il prefetto perché non ha bisogno certamente della nostra richiesta però speriamo che questo possa essere un problema affrontato in modo serio e risolto nell'interesse di tutti quanti ed ora ci fermiamo per una breve pausa linea alla regia a Cava dei Tirreni c'è un luogo dove l'esperienza incontra l'innovazione dove il gusto diventa arte e la tradizione si mescola con la modernità Vieni a trovarci in via Luigi Ferrara 79 Lamberti Market e Bistro dove la passione per il food è di casa Previsioni per oggi Nel pomeriggio sulle coste nubi e schiarite con possibili piovaschi In montagna cieli coperti con piogge miste a neve In serata sulle coste schiarite alternate a nubi sparse In montagna schiarite alternate a nubi sparse Previsioni per domani Al mattino sulle coste schiarite alternate a nubi sparse In montagna cieli coperti con piogge miste a neve Nel pomeriggio sulle coste cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita In montagna cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita Rientriamo in studio con lo sport Vediamo i risultati del campionato di Serie D Girone G Ieri si giocava la venticinquesima giornata Boreale-Nocerina 0-0 Budoni-Flaminia-Civita-Castellana 1-2 Costo orientale-Sarda-Nova Florida 1-1 Cassino-Ischia 0-0 Cavese-Ostiamare 1-0 Cinzia-Alba-Longa-Latte-Dolce 0-0 Romana-Atletico-Uri 1-1 Stesso risultato di San Marzano-Gladiator Anzio-Trastevere 1-3 La classifica vede la Cavese a quota 56 punti Prima in classifica ha più 11 sulla Nocerina Che di punti ne ha 45 Seguono poi Cassino e Romana a quota 44 Ischia 41 Costo orientale-Sarda 39 Ostiamare 38 Flaminia 33 Cinzia-Alba-Longa 32 Trastevere-Latte-Dolce 30 San Marzano 29 Atletico-Uri 27 Anzio 26 Nuova-Florida 23 Con 5 punti di penalizzazione Gladiator 20 Budoni 19 Boreale 18 Ricordiamo che San Marzano e Atletico-Uri hanno ancora una partita in meno E a Cava dei Tirreni la Cavese si è imposta di misura sull'Ostiamare Ha deciso Urso sul calcio di rigore I tifosi della Cavese esultano Questo è davvero l'anno buono La squadra allenata da Raffaele di Napoli ha battuto un Ostiamare Caparbia per 1-0 Complici gli altri risultati tutti favorevoli Gli Aquilotti hanno quindi allungato sulle principali inseguitrici In primis la Nocerina che ora si trova a meno 11 dalla Cavese che è prima in classifica Domenica prossima sul terreno del San Francesco d'Assisi, Nocerina, Cavese Con le immagini di lì a Ranno vediamo le azioni salienti che hanno caratterizzato la gara tra la Cavese e l'Ostiamare Parte meglio la formazione campana, sostenuta da circa 4.000 spettatori Di piazza prova il tiro al volo e manda fuori L'Ostia, schierata col centrocampo a Rombo, manda al tiro Pasqualoni, palla alta Al venturesimo però l'episodio che sblocca la contesa Di piazza per Foggia che apre su De Rosa Cross di quest'ultimo intercetta Sbardella Poi rinvia Bernardini ma l'arbitro, il signor tagliente di Brindisi Assegna il rigore convinto che Sbardella abbia sfiorato il pallone con la mano Proteste dei Lidensi, giudicate voi stessi Fatto sta che sul dischetto si presenta Francesco Urso Che trasforma il penalty Angolando di quello che basta a mettere fuori causa Morlupo 1-0 per la Cavese Poco più tardi lo stesso portiere Morlupo si lascia scavalcare da un pallone apparentemente innocuo ma 7 praticamente dalla linea di fondo non riesce ad approfittarne Il finale di tempo è Dell'Ostia, conclusione di Tinti e parata di Boffelli Nel secondo tempo è una partita a scacchi tra i due tecnici Di Napoli cambia tatticamente la Cavese Il 3-5-2 iniziale diventa 4-3-1-2 Ma il tecnico rivale Campagna risponde rinforzando le corsie laterali con Pozzi e Simonelli I metelliani sfiorano il possibile raddoppio con Conatè Ma poi ci pensa Boffelli a dire di no sulla punizione calciata da Buono e sul tap-in di Simonelli Nel finale preme di più la formazione Lidense alla ricerca del pareggio E all'ottantottesimo Barla Fante, uno dei più vivaci e intraprendenti È sgambettato in aria da Conatè È rigore, si incarica dell'esecuzione Icardi Che angola anche lui come aveva fatto Urso nel primo tempo Ma lo fa troppo e la palla esce, la porta e salva Dalla panchina dell'Ostia Mare reclamano un possibile angolo per tocco con la punta delle dita di Boffelli Ma per l'arbitro non c'è Dopo sei minuti di recupero la gara viene dichiarata conclusa E la Cavese può festeggiare una vittoria difficile E al termine della partita abbiamo raccolto le impressioni di Antonio Campagna Allenatore dell'Ostia Mare e di Raffaele Di Napoli, tecnico della Cavese Ha sensazioni positive, faccio i complimenti ai miei ragazzi Hanno fatto una partita che avevo preparato in settimana Abbiamo fatto una grande prestazione, il rigore si sbaglia, non è quello C'è un po' di marrammarico ma resta la soddisfazione di essere venuti qui E aver fatto una grande partita contro una grande squadra Ha fatto la partita che penso doveva fare Noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo cercato di metterla in difficoltà Secondo me ci siamo riusciti, loro sono una squadra forte, sono i primi in classifica Faccio i complimenti a loro ma penso alla mia squadra che ha fatto la partita giusta Quindi il risultato ci lascia un po' con la mano in bocca Però pensiamo già alle prossime La partita sarà? Non c'è l'idea a Calizzo? Sarà una bella partita, sarà uno scontro penso importante Faccio il boccalupo a tutti e vedrete voi come andrà Oggi sono contento per i tre punti Non sono soddisfatto della prestazione Ma so che da domenica scorsa in avanti sono tutte partite dove subentra anche un po' di tensione Perché si avvicina all'obiettivo E la squadra sotto l'aspetto mentale oggi ha sofferto un pochettino questa pressione Che poi non deve essere pressione, deve essere una cosa che ci deve portare allegria Però il risultato è stato un risultato importante contro una buona squadra Dove è del migliore attacco, del girone, spensierata Però siamo stati bravi e anche fortunati all'ultimo con il rigore Bisogna essere sempre obiettivi Io spero sempre di essere ad analizzare le partite in maniera obiettiva Però la squadra ha risposto alla grande, ha lottato Abbiamo avuto proprio qualche palla per poter fare gol Ed è finita senza gol la partita giocata dalla Nocerina a Fiumicino con la Boreale I Molossi restano al secondo posto ma ha ben 11 lunghezze dalla capolista Cavese E domenica prossima c'è il derby Si interrompe sul più bello ed in maniera inaspettata la striscia positiva della Nocerina Sul campo dell'ultima della classe la formazione di Marco Nappi non va oltre lo 0-0 Fermando a 7 il numero di vittorie consecutive Amaro in bocca per la vittoria mancata soprattutto perché precedeva il derby contro la Cavese di domenica prossima E chissà se la sfida contro i Metelliani abbia inciso soprattutto nel primo tempo quasi regalato alla formazione laziale Ma passiamo alla gara 4-3-3 consolidato per Marco Nappi che in extremis deve rinunciare all'Under Mariano Gioca esposito dal primo minuto L'inizio è di marca laziale con la Fantoni che respince su Bosi Ancora Fantoni protagonista questa volta su conclusione di testa di Ioni La Nocerina si fa vedere dalle parti di Cordiere con Liurni la cui conclusione termina fuori Analoga sorte per la conclusione di testa di Santarelli Tutta qui la prima frazione di gioco con una Nocerina sottotono Nella ripresa meglio la formazione di Nappi che subito avanza il proprio baricentro E con Cardella non inquadra lo specchio della porta Una traversa fortunosa nega alla formazione di Nappi il vantaggio Pochi minuti più tardi conclusione bomba dal limite dell'area di rigore da parte di guida Con il pallone che termina la sua corsa fuori Non ha fortuna neanche Liurni dopo qualche minuto il palo nega all'attaccante dalla Nocerina la gioia del gol Cerca in tutti i modi di segnare il gol partita la formazione di Nappi ma riesce a resistere la Boreale Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro manda le squadre nello spogliatoio fra l'amarezza della Nocerina E prima di chiudere diamo uno sguardo al prossimo turno Alla prossima edizione